Termina 1-1 il big match di Coppa Italia tra Canicati e Raffadali valido per l'andata degli ottavi. Al Carota Bordonaro le squadre di Falzone in mattina regalano al pubblico presente una gara intensa e vincente che permette agli ospiti di presentarsi al ritorno tra le mura amiche con i favori del pronostico per il passaggio del turno. Di Spina e Cipolla i gol entrambi nel finale, dopo 90 minuti combattuti dove i biancorossi di Mister Giovanni Falzone hanno cercato di fare la gara. La svolta del match all'ottantaseisimo quando su una ripartenza il Raffadali passa in vantaggio grazie al solito Gabriel Spina bravo a partire sulla linea del fuorigioco e da pochi passi a siglare la rete dell'1-0. Neanche il tempo di realizzare ed ecco servito il pari delle Canicati firmato dall'ex Cipolla bravo su cross a tuffarsi di testa e punire la sua ex squadra. Nel finale c'è spazio anche per un gol annullato a Iannello, non gol validato dall'arbitro a pochi secondi dal fischio finale a causa di una mischia in area di rigore. Rammarico per Ciancimino e compagni che però avrebbero di certo firmato alla vigilia per questo risultato considerando soprattutto le pesanti assenze di Sant'Angelo, Sciacca e Gennaro. Tra due settimane ci sarà il ritorno a Raffadali e alla squadra il presidente Giacomo Lomascolo potrebbe anche bastare un pareggio senza reti. Ciò significa che dovrà essere ancora il Canicati a fare la partita e sperare di segnare almeno una rete. Si giocherà mercoledì 30 novembre, soltanto tre giorni dopo la sfida di campionato che vedrà opposte Raffadali e Canicati sempre al comunale di Raffadali. Questo per quanto riguarda appunto il campionato. Si ha l'impressione che sia iniziata una sfida infinita che avrà termine soltanto in primavera e che vedrà protagoniste Canicati e Raffadali.